Una testimonianza toccante, emozionante, quella che il tenente colonnello dell'esercito, Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al Valor Militare, rimasto vittima di un attentato a Mogadiscio 29 anni fa durante una missione di pace, ha reso agli studenti della scuola di Torella del Sagno un incontro nell'ambito della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate della commemorazione dei caduti di tutte le guerre organizzata dall'amministrazione comunale. Abbiamo deciso di ricordare innanzitutto il 4 novembre con il suo significato di Unità Nazionale e per le Forze Armate, l'abbiamo fatto però con qualche giorno di ritardo per dare la possibilità agli studenti di poter ascoltare dal vivo la testimonianza del comandante Paglia, medaglia d'oro al Valor Militare ed esempio tra i migliori per queste nuove generazioni. Questo è l'inizio di un nuovo percorso grazie alla collaborazione della scuola, della dottoressa Di Blaso, delle docenti e di tutto il personale che ci permetterà l'anno prossimo, in occasione del centesimo anniversario delle medaglie d'oro, di poter restituire il parco della rimembranza a quello che era d'antico splendore quindi con l'indicazione di quello che oggi molti scambiano per parco comunale ma che è un parco della rimembranza istituito con un reggio decreto proprio per celebrare la vittoria della prima guerra mondiale e i suoi caduti. Quindi iniziamo un percorso per recuperare la nostra memoria torrellese. Quello che è successo 29 anni fa durante l'operazione umanitaria in Somalia quindi sono rimasto ferito, quel giorno ci furono 3 morti e 29 feriti io sicuramente più fortunato di loro perché almeno sono tornato. Ha ricordato anche il sacrificio di Delizio? È doveroso, è doveroso anche perché per i familiari è qualcosa che non potranno mai dimenticare e allora un paese serio, un paese onesto, un paese leale ha il dovere sacrosanto di non dimenticare i propri caduti. Ora abbiamo la guerra a pochi passi dall'Italia. Sì, si sta cercando in tutti i modi di fare qualcosa di concreto però la situazione è abbastanza critica. Io mi auguro che l'Europa tutta riesca fino alla fine e fino in fondo a fare in modo che l'Ucraina possa tornare a essere un paese libero. Grazie.